La Galilea dei Gentili è un territorio al quale si riferisce questo messaggio che io ho ricevuto ed è il territorio ben preciso che dà vita a tutti i popoli latini, quindi tutto il Sud America, tutti i paesi europei che parlano la lingua latina, quella è la Galilea dei Gentili, che è il territorio dove mi è stata data indicazione a me di lavorare spiritualmente. Questo non significa che non posso andare in altri posti, io sono stato dieci anni in Russia e la Russia ha una fede dieci volte più grande della nostra. Infatti ho molti, chiamiamoli così, simpatizzanti in Russia, se tu guardi la lingua cirillica ci sono decine di siti a mio nome, a mia insaputa, ma tutti parlano bene, studiano quel sito che tu hai visto, se lo traducono da soli, perché hanno la capacità intellettiva, sono intellettuali tutti, in Russia hanno studiato tutti, qui noi siamo ignoranti. Il fenomeno ufologico in Russia lo vivono come se fosse qualcosa di normale nell'astronomia. Io ho parlato con gli astronauti, quindi anche loro sono tra virgolette latini d'animo. Però questo non te lo so spiegare, quello che ti so dire è che il popolo di Israele, molti, io credo nella reincarnazione premessa, molti dei seguaci di Cristo duemila anni fa, che nella piazza non hanno gridato crocifiggilo, si sono reincarnati oggi in tutti i popoli latini, Italia compresa, maggiormente in Italia. Ecco la Galilea dei Gentili. Ecco la Galilea dei Gentili.